Ciao a tutti da Maurizio di Moto.it, benvenuti su Recensito. Gli ospiti del giorno sembrano essere due oggetti misteriosi, ma la loro utilità verrà apprezzata da tutti gli appassionati di motori. Di cosa si tratta? Di Dry Helmet e Sweet Dryer, ovvero due asciugatori prodotti da Capit, azienda specializzata in termocoperte, studiati per rinfrescare e asciugare caschi e tute e riportarli così dopo un lungo utilizzo o dopo sessioni accaldate al loro stato iniziale, ovvero freschi e asciutti. Pensate che con un casco con interno bagnato servono circa 15 minuti per riportarlo alla condizione ideale. Tenete però presente che il tempo di asciugatura non è un parametro di qualità, ovvero non pensiate che meno ci mette più funziona, perché un'asciugatura lenta preserva i tessuti e le imbottiture. Entrambi hanno proprio per questo la doppia funzione che è la vera e propria particolarità di questi oggetti, ovvero aria fredda per areare ed aria calda 30 gradi per il Dry Helmet e 50 gradi per il Sweet Dryer che permette di asciugare il casco o il capo. Del resto Capit ha sfruttato l'esperienza di alcuni suoi piloti della MotoGP e della Superbike che usavano già le termocoperte per sviluppare poi questi due prodotti. Dicevamo che la Capit ha fatto la felicità di tutti i motociclisti con questi prodotti, soprattutto con il Dry Helmet che è adatto a caschi da strada, fuoristrada e jet. Ovviamente anche i caschi d'auto però possono essere posizionati senza alcun tipo di problema. Sui Dryer invece si presta all'utilizzo per tute in pelle da moto o da auto ma anche da kart. Entrambi i prodotti sono realizzati in ABS con piastre e telai in alluminio che ne garantiscono leggerezza ma anche durabilità. Veniamo ora agli optional. Per il Dry Helmet si può ordinare la borsa personalizzata per il trasporto. Per il Sweet Dryer invece si può acquistare il cavalletto che vedete qua a fianco a me che può ospitare due tute. È fatto in alluminio, è smontabile ed è consegnato anch'esso in una sacca per il trasporto e costa 185 euro più IVA. Quali sono i colori? Il Dry Helmet è disponibile in nero, silver e addirittura cromato mentre il Sweet Dryer per il momento è disponibile solo nel colore nero. Pesi il Dry Helmet ferma l'ago della bilancia a 2,5 kg mentre il Sweet Dryer a 2 kg. Garanzia 2 anni. Difetti? L'unico che abbiamo riscontrato è per il Dry Helmet perché i caschi con la base dalla calotta piatta, quelli nuovi per intenderci adatti ai moderni collari, potrebbero avere qualche problema di stabilità per via di queste nervature, ma non preoccupatevi perché Capit ci sta già lavorando. Prezzi? Infine Dry Helmet 135 euro più IVA e un po' di più per il Sweet Dryer perché costa 198 euro più IVA. Ciao a tutti da Maurizio di Moto.it, vi aspetto alla prossima puntata di Recensito. Ciao a tutti da Maurizio di Moto.it, benvenuti a Recensito. Dovete sapere che è un sandwich di più materiali. La vestibilità è piuttosto stretta, ma addentriamoci nel dettaglio. Quali sono le caratteristiche principali? Infatti pesano circa un terzo in meno rispetto alle batterie tradizionali. Vanta diverse accortezze e soluzioni che solitamente troviamo su giacche di fascia più alta. Si nota poi il sistema di ritenzione a cinghia con doppio anello.